Perché si soffre il mal d'auto? E come soprattutto si può ovviare. Valerio, ci aiuti? Sì, ci provo. Il mal d'auto è parente del mal d'aria, è parente del mal di mare. Sono tutti quanti dei fenomeni legati a delle oscillazioni che si ripercuotono all'interno del nostro corpo. Di solito si pensa che il fastidio venga dallo stomaco perché è lì che lo accusiamo. In realtà non è così. E allora da dove? Dovete sapere che all'interno del nostro orecchio il nostro orecchio l'evoluzione ha fatto un lavoro straordinario c'è un sistema chiamato di canali semicircolari. Sono questi qui che vedete. Sembra una maschera da subo o qualcosa del genere. Ma guardate come sono fatti, come sono disposti. Questo è un modellino che ho fatto io ovviamente. C'è un canale, un semicerchio in questa direzione un'altra perpendicolare e una terza di base. In pratica è l'equivalente di questa scatola. Cioè se noi vogliamo prendere un riferimento per capire dove siamo, delle coordinate, che cosa ci serve. Ad esempio se abbiamo un armadio, la faccia anteriore, il lato posteriore e la base. Una volta che abbiamo questo sistema di riferimento sappiamo se l'armadio o la scatola è inclinata, se è in questa direzione, in questa o in quale. Così il nostro corpo. Quindi questi canali semicircolari ci danno il senso dell'equilibrio. Ah, l'equilibrio. Benissimo. E come funzionano questi canali semicircolari? Sono dei tubicini. Dei tubicini che hanno un liquido all'interno che non è propriamente acqua, si chiama endolinfa, e funzionano come una livella. Ah, una bolla. Quindi dobbiamo essere in bolla praticamente. Bravo, in bolla. Allora, adesso vi faccio vedere soltanto il piano orizzontale. Naturalmente, quando la bolla è al centro sappiamo che siamo perfettamente orizzontali. Però si può fare altrettanto, anche qui c'è una bollicina più piccola se si riesce a cogliere, ruotando di 90 gradi e così via. Quindi significa che questo liquido si dispone all'interno dei canali semicircolari dandoci costantemente la sensazione dell'equilibrio e della nostra posizione all'interno dello spazio. Cosa succede se questo sistema viene perturbato? Vediamolo insieme. È un piccolo modello fatto da me ma riproduce abbastanza fedelmente quello che accade all'interno dei nostri canali semicircolari nella parte interna dell'orecchio. Quindi stiamo parlando sempre di questo liquido che abbiamo nei canali delle nostre orecchie. Esatto, esatto. Vediamo com'è, perché è fisica, per questo è bello ed è così evidente. Allora, guardate, questa è una scatola, immaginiamo che sia semicircolare, l'ho fatta piana per semplicità, e dentro c'è un liquido. Il liquido, come vedete, è evidenziato, metto un dito dentro, eccolo qui, un liquido evidenziato dal colore rosso. Allora, in questo caso, se io metto perfettamente in piano, ecco, io so che sono orizzontale. Ad esempio, se sono disteso sul letto, avrò il canale semicircolare corrispondente in questa posizione. Ora, cosa succede se il liquido viene perturbato? Ci andiamo in discoteca a ballare. Cosa succede? Proviamo. Faccio tremolare. Vedete, ci sono delle increspature del liquido, ma non succede niente di particolare. Il livello non cambia molto. Sì. Mentre invece, se andiamo su un traghetto, se andiamo in macchina, se andiamo in aereo, ci sono dei moti oscillatori regolari. Regolari. Ti vogliamo vedere? Guardiamo qual è l'effetto. Allora, se stringiamo adesso sulla scatola, faccio un modo. Guardate. Oh, oh, oh. E allora il liquido all'interno anche delle nostre orecchie. Gianluca già non si sente bello. Ferma perché Gianluca già non si sente bello. Guardatevi, se non quadrate, sono già più pallido. È bastata la simulazione per far capire però che, allora, i nostri sensori, che sono delle cellule poste all'interno del canale semicircolare, vengono sollecitate, vengono perturbate violentemente. Certo. E questa è una ripercussione su tutto il sistema fisico, sul sistema nervoso, che ci dà degli effetti che ci dicono praticamente, fermatevi. Quindi, quel disagio ci sta dicendo qualcosa non va, la condizione in cui vi trovate non è ottimale. Ecco, Valerio, poi come al solito ci sono i vari accorgimenti. State davanti, guardate la strada. Se non ci si può fermare, bisogna trovare un volo. Esatto, non mangiate pesante. E l'ultima cosa, ma perché quando uno guida invece il mal di mare non lo ha? Allora, lo ha molto meno per vari motivi. C'è un motivo fisico, cioè che quando tu sei alla guida, sei bloccato al volante e sei in una parte del veicolo, che è quella anteriore, meno soggetto a scuotimenti, mentre invece la parte posteriore è più accentuato. La cosa, il consiglio che posso dare, a parte il fatto di prendere dei farmaci che servono proprio, che sono lenitivi, che sono sedativi, e quindi ci fanno patire di meno, è di guardare fuori. Il vecchio consiglio della nonna, guardate fuori. Perché guardare fuori? Guardare fuori lontano, perché i punti lontano sono meno soggetti alle oscillazioni. Se guardi un punto lontano ti sembra fermo anche se tu stai andando su e giù. Grazie Valeria Rossi Albertini. Grazie, sono pronta a affrontare il prossimo viaggio.